La Asli di Teramo ha annunciato che saranno inviate tra oggi e domani 10 lettere di sospensione per altrettanti dipendenti che non hanno voluto vaccinarsi contro il Covid e che rappresenta la prima tranche di un numero più elevato di sospensioni. Un iter avviato nello scorso mese di agosto è ora giunto quasi a conclusione, visto che si sta lavorando per avere un quadro completo e definitivo dei dipendenti Novax. Quante siano nel complesso e quali figure riguardino al momento non è dato sapere, l'unica cosa certa è che il piccolo esercito di contraria al vaccino che lavorano a vario titolo per l'azienda sanitaria inizialmente era di circa 200 persone, numero che si è assottigliato col passare del tempo. Stiamo ottemperando una disposizione normativa intervenuta qualche mese fa, adesso terminato l'iter procedurale abbiamo concluso questa prima fase in cui sono stati individuati 16 unità di personale che rientrano nelle fattispecie previste dalla normativa, per queste persone partiranno immediatamente tra oggi e domani 10 lettere per 10 persone, per 6 stiamo verificando la condizione lavorativa perché pare che alcuni non sono in servizio per malattie o infortunio quindi stiamo valutando il da farsi per questa tipologia. Ecco si è partiti da circa 200 persone che non erano vaccinate, sono stati espletati tutti gli accertamenti dopo qualcuno era vaccinato in altra ASL, qualcuno diversi sono vaccinati nel frattempo per il numero di persone che non hanno temperato oppure che hanno mandato dei giustificativi perché affetti da patologie che non consentono la vaccinazione oppure per stato di gravidanza è emerso che la fattispecie che poteva essere applicata a questo interi personale, però stiamo verificando anche tutti gli altri dipendenti che hanno trasmesso dei giustificativi se sono plausibili o meno.